Siamo nella cassa di espansione vicino all'impianto di Castelletti, nel comune di Signa. La cassa di espansione di Castelletti ha una superficie di circa 6 ettari ed ha una funzionalità idraulica molto importante perché invasa in caso di necessità le acque dell'ombrone, mettendo in sicurezza questa area dal reticolo idraulico particolarmente complesso. In quest'area è stato realizzato un progetto di valorizzazione finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale. Quest'area è stata oggetto di un progetto importante all'interno del PIT Parco della Piana con il finanziamento dell'Unione Europea e del Piano di Sviluppo Rurale per la ricostruzione di una trama del paesaggio storico agrario della zona con la creazione di campi lunghi e affossature, con piantumazione di salici e altri alberi che renderanno la zona simile a quel paesaggio agrario tradizionale che c'era nel Settecento. Accanto a questo progetto è stato deciso di realizzare un'altra iniziativa di valorizzazione agricola dell'area attraverso il progetto BCB, Bees, Crops and Biodiversity. Su tutta la superficie è stato seminato a fasce alterne del trifoglio, trifoglio incarnato o trifoglio incarnato ma il trifoglio bianco ladino varietà gigante. Lo scopo di queste semine è stato quello di creare un habitat particolarmente favorevole alla riproduzione degli insetti e dare un alimento soprattutto ai pronubi, alle api nel periodo di scarse feriture né tarifere come può essere quello tardo o primaverile. Si tratta quindi di un'azione che favorisce la biodiversità, la presenza di api sul territorio in maniera diffusa e anche il recupero di aree marginali spesso incolte che può essere quindi una interessante proposta facilmente essendibile ad altri territori per favorire la presenza di insetti impollinatori e la biodiversità. La presenza infatti di fasce alterne di semina, in questo caso è visibile il trifoglio incarnato dal tipico colore rosso, ma quello bianco è invece un pochino più indietro nella fritura ed è più misto a foraggiare, permette appunto una discreta biodiversità anche sul territorio. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Dipartimento d'Aghe dell'Università di Firenze e in particolare la dottoressa Chiara Grasso e il dottor Marco Napoli, a cui va un doveroso ringraziamento. Questo progetto, che riteniamo sia interessante e facilmente esplottabile in altre realtà del nostro consorzio per il recupero appunto di aree marginali allo scopo di favorire appunto la biodiversità, ha anche un valore estetico. Infatti i campi rossi, l'alternanza di colore rosso e bianco è stata anche volutamente ricercata, sia perché rimanda ai colori della Toscana, sia perché rimanda, e quest'anno è il settecentesimo anniversario di Dante, anche abbiamo pensato appunto ai colori della città di Firenze e quindi un omaggio al cittadino.